Scatta fino al 15 aprile su molti tratti di strade di competenza della provincia di Arezzo l'obbligo per i veicoli di avere a bordo le catene da neve o di essere muniti di pneumatici invernali o quattro stagioni. Con il piano neve che entra in vigore per questa stagione invernale la provincia raccomanda a tutti i cittadini di fare attenzione alla segnaletica che indica tale obbligo nelle strade provinciali e in quelle in gestione, obbligo che vale anche nel comune di Arezzo. I veicoli dovranno essere muniti o avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli come catene o altri dispositivi o pneumatici invernali o quattro stagioni idoni alla marcia su neve o su ghiaccio. L'ordinanza del presidente della provincia di Arezzo del 2012 individua i tratti di strade interessati. Quell'ordinanza dispone inoltre che sempre nello stesso periodo negli stressi tratti di strade, nel caso siano in corso fenomeni atmosferici avversi come neve, formazioni di ghiaccio, i veicoli hanno l'obbligo di avere montati idoni mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali per la marcia su neve o su ghiaccio. Nei prossimi giorni la presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai, emetterà un'ultima coordinanza inserendo nuovi tratti di strada nel quale dovrà valere l'obbligo dell'equipaggiamento invernale che scatterà a partire dal primo dicembre. Si raccomanda la massima prudenza alla guida rispettando i segnali stradali che indicano i divieti e le prescrizioni. Ogni aggiornamento legato alla percorribilità delle strade di competenza sarà visibile nel sito istituzionale della provincia viabilità.provincia.aghezzo.it